Allora ragazzi, fareste giocare vostro figlio con un giocattolo controllato da un'intelligenza artificiale? Si chiama Grock, ha la forma di un razzo e dialoga con i bambini grazie all'intelligenza artificiale. È il primo prodotto della startup Curio e ha come obiettivo quello di far stare di meno i bambini davanti alla tv, giocando con un gioco alternativo e in qualche modo interattivo. I bambini possono dialogare con il giocattolo, i genitori possono ovviamente controllare le loro conversazioni tramite app con un gioco simile. Il tema della privacy e della sicurezza, la tutela dei dati è fondamentale. La startup infatti assicura che non raccoglie né memorizza dati vocali, ma sappiamo anche che in passato ci sono stati casi simili di giocattoli che ascoltavano di fatto le conversazioni. C'è poi un altro grande tema. I bambini dialogano con un IA, ma sono consapevoli che sia un'intelligenza artificiale? Riescono a capire la differenza tra un dialogo vero con una persona e uno fittizio con una macchina? Ci sono adulti che credevano di essere fidanzati con persone che non esistevano perché create da app dotate di intelligenza artificiale. I bambini come potrebbero reagire? Rock and roll